Ben tornati in questo nuovo video di Brawl Stars in compagnia di Alessio Oggi proveremo a portare Shelly al grado 20 o il 19 e a me stecca a grado 15 Quindi dovremo fare un po' di coppe, questi qua sono i miei trofei Tra poco sbloccherò Tic E questo qua è il profilo di Alessio Bambarvi al grado 16 Molete Tic Pronto Giocheremo le duo Cercheremo di portare pure un miracolo stecca a grado 20 E nel prossimo video vi porteremo il box opening Enorme Quindi da oggi cominceremo a ripusarci le casse E se a questo video raggiungi 20 like porteremo un glitch su come trovare Spike Chi è quel bull? Non mi piace molto Ho chillato colt, incredibile Un power up per noi GG Nooo non GG Attenzione, occhio, non mi piace quella coppia, è troppo forte 3, 2, 3, 2, 1 Non che ho preso danno C'è una coppia fortissima Io faccio una trappola Quarti meno due Uno uno Giocheremo e cambieremo un brawler Io metto per voi Metterò Brock E lo porterò a grado quindici Io voglio portare Grado dodici Cercheremo di fare un video di dieci Quindici minuti Solo perchè Tampò dobbiamo andare via Dobbiamo andare a stasera Che sta a dire? Sto scherzando Sto scherzando Sto scherzando Solo che non ci cascano lui Assosso 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 Sì che killer che ho fatto Aspettami Ale aspettami Siamo tutti uniti qui Dobbiamo vincere il trofeo Grande killer Ale Tu che vuoi carletto Cura ti cura ti cura ti cura ti Mi piace questa partita Che buona Occhio è il primo con diecimila di HP Via 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 Se lo sfonna Se lo sfonna Se lo sfonna Da lontano questo lo posso massacrare Questo è il primo Lo massacro da lontano lo massacro Se lo prendo lo massacro Occhio No 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 Questo è troppo forte E' un cecchino Faccio il cecchino Oh Oh Potremmo fare il cecchino Questa è la bomba Penny Attenzione Penny Sì Grazie Ale Ecco via Buttagli il bombete Ecco via Andiamo da il primo No 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 Anche questo No What 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 Dai no no è che è finito No 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 Sono finito io Attenzione alla Ulti di al primo spero non venga su di noi qui 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 qua c'entra qua c'entra usciamo usciamo c'è la safe c'è un ultimo mi sembra che compra qui no attenzione coppia carletto che spacca tutto attenzione digi per me digi per me se che vittoria dal 5 dai no 9 grado unici sono stato fortissimo ho sbagliato con una ultima ho sbagliato tutti ma ti gioca un po' alla piedra no no mi sono sbagliato 51 su 100 per la cassa bravo io ti posso fare io me lo riposo poi se tu fate quello mi fate 2 si si un altro due colpetta si passa what tu non mi devi toccare lui cecchino le fa il cecchino vieni occhio a quella penny pericolosa si è pericolosa con la penny porco tu che bocca che bocca che gli ho dato che bocca che male che male mi ha preso fortunatamente mi ha preso si ti ha preso Brock non mi piace questa partita però se ammazziamo questa coppia possiamo se ammazziamo questa coppia ci giocheremo la partita ma non la ammazzeremo mai qui no che brutta conflitta facciamo le ultime tre partite e andremo al prossimo video della megabox opening in compagnia sempre di Alessio e mi raccomando unitevi al nostro clan forza pico tutto minuscolo e Alessio c'è un nuovo arrivato nena lo sai chi è? si è chi è? so io il telefono dei miei hai il tablet su Pier09 che fra poco cambio nome siamo Pier e Serena attenzione io sono il secondo del clan invece è il nostro primo è Alex Solaru con 5400 copp e 5300 copp 5300 prendi questa power up oh bottoni ho dato un bottone l'ho dato bottoni bottoni attenzione ora scappio se quelli vanno alle bombette sono finiti no 500 di HP l'abbiamo pillato 36 di vita cosa c'aveva attenzione quella scella i broc maledetti qua vieni qua la zona rossa bella kill fra via via quella scella è molto pericolosa con 9 power up una bella ulti non mi pare tanto normale attenzione questi qui ci distruggono attenzione i danni di power up attenzione questi scoppiano là stanno a campare so c'è spuglio per me qua o là eccoli no rega vissi forti rega no 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 vai doppia vittoria sono troppo forte non so perché 10 coppie e grado 15 e ce le facciamo attenzione scusami adesso non ho la cassa di 9 gettoni mele comincio a riposare a lei mi fai arrivare a 3600 poi spegniamo capito che il video è già in 8 minuti facciamo l'ultima partita e poi finiamo va bene no facciamo con iuillalbox miro dopo no no mo mi faccio prima un giro amici se secondo voi il clan nostro sarebbe forte dopo ve lo farò vedere che ho un amico che ha 9000 coppie e 8000 coppie tra un po' recupera grazie no si grazie ciao ci mangiano ci mangiano no vabbè ciao a tutti i ragazzi è lasciato un bel mi piace perché se raggiungiamo i 20 like il glitch per trovare spike ciao